Sono Francesca Blasi, sono un architetto e un'imprenditrice digitale e aiuto tutti coloro che desiderano vivere nell'ambiente dei loro sogni utilizzando al massimo la loro creatività. In questi anni ho realizzato l'accademia di home decor e quindi di progettazione e trasformazione di ambienti andando ad aiutare chi desidera anche sia trasformare la propria casa ma soprattutto chi desidera diventare una interior relooker. Tra le altre cose mi occupo di aiutare le donne ad avere un approccio del tutto innovativo trasformandoli in delle persone più sicure, forti e determinate mostrando loro quale sia la strada per iniziare a fare le giuste scelte per la propria vita. Io stessa anni fa mi sono trovata in una situazione difficile e mi sentivo veramente insoddisfatta di quello che avevo ottenuto fino a quel momento. Ho deciso allora di formarmi e tuffarmi nel digitale riuscendo a raggiungere quella che è la mia concezione di successo. Credo fortemente nella creatività come forma di meditazione ma anche di consapevolezza in grado di dar vita ad un profondo senso di benessere. Noi creiamo e siamo attratti dal farlo semplicemente perché ci piace e perché ci fa stare meglio. Questo è uno dei principi su cui si basa la mia Accademia di Creazione dell'Atmosfere un'Accademia che in questi anni grazie alla tematica dell'home decor è riuscita a formare centinaia di donne tramite percorsi disegnati su misura a seconda delle diverse esigenze e punti di partenza. Ho intenzione di portare nella tua vita i principi che sono stati quelli che hanno permesso di rivoluzionare la mia. Voglio condizionarti, trasformarti, renderti competente. Desidero donarti alcuni dei concetti più importanti che ho scoperto in questi anni perché credo fortemente in tutto questo. Sono Francesca Blasi e questo è il mio canale.